Domenica 3 settembre, Saki Kashima difenderà il suo High Speed Championship dall'assalto di Momokogo, un'avversaria scelta personalmente dalla campionessa stessa. Riuscirà Momokogo a scioccare il mondo e a vincere l'High Speed Championship? Oppure sarà ancora una volta Saki Kashima a vincere e a restare campionessa? Ne parliamo in questo video. Signori, konnichiwa! Dopo qualche giorno di vacanza, il vostro amichevole Kirito di quartiere è di nuovo pronto per darvi il benvenuto sul canale. Come detto ad inizio video, domenica 3 settembre, Saki Kashima sarà costretta a mettere in palio l'High Speed Championship contro Momokogo. Un'avversaria alquanto particolare, sì perché sappiamo tutti che Momokogo non ha esattamente uno status da main eventer ed è per questo che probabilmente Saki Kashima l'ha scelta per accapparrarsi una vittoria facile. O almeno così crede lei. Ma sarà davvero così? Prima di vedere come si è arrivati a questo match, vi invito cortesemente a iscrivervi al canale e a lasciare un like. Vi ricordo ancora una volta che per voi è completamente gratuito, ma per me e per la crescita del mio canale è di vitale importanza. Saki Kashima conquistò per la prima volta in carriera l'High Speed Championship a Stardom Fleshing Champions 2023, dove riuscì a sconfiggere Azumi, che era la detentrice del titolo, e Fukiden Dead in un 3-way match. Successivamente, Saki verrà coinvolta nella rivalità tra Oedo Tai e Queen's Quest, che sfocerà in un 12 Women Tag Team Steel Cage match a Stardom Sunshine, pay-per-view che andò in onda il 25 giugno. Oedo Tai perse la guerra contro Queen's Quest e di conseguenza Saki Kashima fu costretta a lasciare Oedo Tai, Stable che incolpò Saki della perdita e la presero di mira nelle settimane successive con vari agguati e vari pestaggi. Questo portò Saki Kashima a difendere con successo l'High Speed Championship contro la sua ex compagna di Stable, Fukiden Dead, a Stardom Miss Summer Champions 2023. Dopo il match, un nuovo agguato da parte di Oedo Tai ai danni di Saki Kashima stava per essere messo in atto, ma la campionessa fu salvata, un po' a sorpresa, da Shuri e Ami Sorei. Di conseguenza, Saki Kashima entrò a far parte di Gozai. Qualche tempo dopo, precisamente a Stardom Miss Stardom 2023, pay-per-view che andò in onda il 13 agosto, Saki Kashima difese con successo il titolo contro Koguma, un'avversaria però che fu scelta personalmente da Saki Kashima, che rifiutò dapprima la sfida lanciata da Mei Seira, non ritenendola meritevole di tale opportunità. Poco dopo la fine del match, Mei Seira provò ancora una volta a sfidare Saki Kashima, avendola battuta più volte durante le varie settimane, quando le due si ritrovarono faccia a faccia in vari tag match. Ma ancora una volta Saki rifiutò la sua richiesta, nominando come suo prossimo avversario Momokogo. Una Momokogo che arriva al match non nelle migliori condizioni. Sì, perché sappiamo che il suo status all'interno della federazione non è dei migliori. Spesso e volentieri, Momokogo è la lottatrice che prende il pin durante i match tag team con le sue compagne di Stars. Ma è anche vero dire che in questo 2023, Momokogo ha dimostrato una nuova grinta. Da prima andando a partecipare al torneo di assegnazione del nuovo New Japan Pro Wrestling Strong Women's Championship, torneo che si svolse il 21 maggio durante Resurgence, per per view tutto americano targato New Japan Pro Wrestling, fallendo però al primo turno, quando venne appunto eliminata da Willow Nightingale, che poi vinse il torneo laureandosi la prima Strong Women's Champion della storia, battendo in finale Mercedes Monet. E più tardi andando addirittura a sfidare Giulia per il New Japan Pro Wrestling Strong Women's Championship, in un 4-way match a Multiverse United 2, per per view di Impact Wrestling in collaborazione con la New Japan Pro Wrestling, andato in onda il 20 agosto. Al match ci parteciparono anche due stelle di Impact Wrestling, Dionna Purrazo e Giselle Shaw, ma nessuno di loro riuscì comunque a sconfiggere Giulia, che uscì dal match ancora come Strong Women's Champion. Momokogo dunque sembra un'avversaria di comodo per Saki Kashima, ma la campionessa non deve assolutamente sottovalutarla. Momokogo ha sicuramente voglia di dimostrare al mondo in etero di non essere seconda a nessuno e ha voglia di conquistare il suo primo titolo in Stardom, quel high speed championship che ha già provato in passato a vincere, fallendo però le varie possibilità concesse dalla Stardom. Sarà questa la volta buona? Buona fortuna a Momokogo dunque, che però a mio avviso non riuscirà comunque a portarsi a casa la gognata cintura. Sì perché credo che la vincitrice di questo match sarà proprio Saki Kashima, che riuscirà a uscire dal match ancora come high speed champion. Una vittoria di Momokogo sembra alquanto impossibile, anche perché all'orizzonte per Saki sembra esserci un ostacolo ben più difficile di questo, un ostacolo chiamato Mei Seira. Una Mei Seira che sembra davvero intenzionata ad essere la prossima high speed champion, ma attenzione perché anche per Lei si prospetta una nuova sfida all'orizzonte, una sfida che potrebbe portarla su una strada diversa. Siccome proprio durante lo stesso show, Mei Seira in team con Sudu Suzuki affronteranno Natsupoi e Sahori Anu, con i goddess of Stardom Championship in paglio. Di questo però parleremo in un prossimo video, quindi stay tuned. Ora, parola a voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti il vostro pronostico sul match tra Saki Kashima e Momokogo. Un match che parrebbe alquanto scontato, ma che potrebbe regalare più di una sorpresa. Se il video vi è piaciuto, vi invito ancora una volta a lasciare un like, a iscrivervi al canale e a spuntare la campanella per non perdervi contenuti futuri. Inoltre, qua sotto in descrizione, vi lascio tutti i link dei miei altri social, così che possiate restare in contatto con me anche fuori da YouTube. Dal vostro amichevole chirito di quartiere, per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima! Matane!